bonsoir mes amis ciao viaggiatori questa volta vi prendiamo e vi portiamo a bordeaux en france si bonsoir perché in realtà questo video lo cominciamo dalla fine è la nostra ultima serata qui a bordeaux dove abbiamo passato le nostre vacanze quindi questo video è un po' speciale è un po' speciale abbiamo fatto uno scambio casa di due settimane quindi l'abbiamo vissuta proprio da veri abitanti di bordeaux ci siamo divertiti un casino perché a bordeaux è fighissima e cosa possiamo dire? che adesso state pronti perché c'è una carrellata di immagini una dopo l'altra con i posti che ci sono piaciuti di più e mi raccomando una volta finito il video ricordatevi di iscrivervi al canale via iscrivervi al canale come on come on come on come on come on Grazie a tutti.